I dispiaceri d'amore si sa possono far dimagrire e questo è quello che deve essere decisamente accaduto a Michela Rocco di Torre Padula, moglie di Enrico Mentana che ultimamente è apparsa in pubblico ancora più magra del solito. La Rocco di Torre Padula è sempre stata molto esile ma adesso sta suscitando la preoccupazione dei suoi fan perché appare veramente magrissima. Tutti sanno anche grazie proprio all'esuberanza di Michela sui social che il suo matrimonio con Enrico Mentana ha qualche problema dovuto a quanto pare alla sua convinzione che il marito abbia un amante. L'auspicio dei fan di Michela è che possa tornare ad essere serena e in salute quanto prima, magari mangiando una bella bistecca.